ma ben a tutti amici di doppia frizione oggi andremo a cambiare i dischi dei freni di tina perché sono un po consumati e già che c'ero ho preso dei dischi baffati e forati così da avere un miglioramento nei freni adesso andiamo giù in officina e ci facciamo mettere a Siamo a qualche giorno dopo l'installazione dei dischi a freno e io e dei miei amici, cioè in realtà io ho avuto l'idea malsana, praticamente ho rivisto qualche giorno fa, non so se vi ricordate quello del carammato che inchioda davanti a dieci persone, ok magari ve lo metterò vicino qua per farvi capire. Volevo fare più o meno la stessa cosa con i 106 per farvi capire l'attrito che questi dischi dei freni fanno. Questo è il luogo in cui svolgeremo l'esperimento, questa è la strada, speriamo che nessun morto. Busca il cellulare. Ragazzi sto per morire. Più vicino. Ok ok ok, com'è stata questa esperienza? Bene anche se non ho frenato con tutta la potenza. Io mi sentivo un po' morire sinceramente. Non ho frenato con tutta la potenza della patina.